Un vigoroso incendio è divampato a Marotta, poco dopo le 13.30 di oggi nel retro del ristorante bireria Vecchia Osteria, lungo la Nazionale, all'altezza della stazione ferroviaria. Le fiamme si sono sviluppate nel capanno in legno sul retro del locale, dove vengono ricoverate masserizie varie e di fusti della birra. E sono stati proprio alcuni di questi fusti, con il loro rivestimento in PVC, ad andare a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Tutte le ipotesi sono aperte al vaglio degli inquirenti, compresa la matrice dolosa, in quanto nel capanno non ci sono prese elettriche o utensili alimentati a corrente, che potrebbero causare un eventuale cortocircuito. Altra circostanza al vaglio, la tempistica. Dalle prime risultanze, le fiamme si sono sviluppate pochi minuti dopo che il titolare del ristorante è uscito dal locale. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme ai vigili del fuoco, precisamente l'inquilina del primo piano, che ha il terrazzino proprio sopra il capanno e che ha subito i danni maggiori. Ma tutta la facciata del palazzo riporta i segni della combustione del fumo nero e denso causato dal rivestimento in materiale plastico dei fusti. I segni della fuligine sono visibili fino al sottotetto della palazzina a tre piani. E se i danni sono limitati solo a questo, lo si deve al tempestivo intervento proprio dei vicini di casa, che per primi e con mezzi di fortuna, mentre i pompieri di Fano con due mezzi arrivavano sul posto a sirene spiegate, hanno aggredito le fiamme per contenerle. L'intervento poi della squadra dei vigili del fuoco è stato rapido ed il rogo è stato domato in breve tempo. Sul posto, per gestire la viabilità e circoscrivere l'area, due pattuglie della polizia municipale ed una dei carabinieri della stazione di Marotta, che assieme ad un dirigente del corpo dei vigili del fuoco hanno valutato le dinamiche dell'incendio. Non si registrano danni all'interno del locale né agli appartamenti e non risultano lesioni a persone.